A tutti una buona serata, le previsioni per domani giovedì, ben soleggiato e via via un po' più caldo, con temperature massime che arriveranno nuovamente a toccare i 30 gradi sulla pianura. Poche nuvole di bel tempo sui monti nel pomeriggio, asciutto, più caldo anche in montagna, con quota di zero termico che risale a 4.500 metri, i venti a regime di Brezze.